Michela Murgia ha sposato Lorenzo Terenzi. Come aveva annunciato lo scorso maggio, lo stesso giorno in cui ha fatto sapere di avere un tumore al quarto stadio, quella del matrimonio è stata una scelta obbligata perché lo Stato alla fine vorrà un nome legale che prenda le decisioni, aveva spiegato. Il rito civile si è svolto qualche giorno fa, a casa della scrittrice, a causa delle sue condizioni di salute. Su Instagram il video e le sue parole, qualche giorno fa io e Lorenzo ci siamo sposa, tre civilmente. Lo abbiamo fatto in articulo Mortis perché ogni giorno c'è una complicazione fisica diversa, entro ed esco dall'ospedale e ormai non diamo più niente per scontato. Il matrimonio in articulo Mortis si celebra quando uno dei due coniugi è in pericolo di morte. Michela Murgia spiega che per loro non è una festa, lo abbiamo fatto contro voglia, se avessimo avuto un altro modo per garantirci i diritti a vicenda non saremmo mai ricorsi a uno strumento così patriarcale e limitato, che ci costringe a ridurre alla rappresentazione della coppia un'esperienza molto più ricca e forte, dove il numero due è il contrario di quello che siamo. Niente auguri, quindi, perché il rito che avremo voluto ancora non esiste. Ma esisterà e vogliamo contribuire a farlo nascere. A breve, infatti, ci sarà un altro matrimonio. Simbolico per la legge italiana, ma pieno si significato per loro e per tutta la queer family della scrittrice, tra qualche giorno nel giardino della casa ancora in trasloco daremo vita alla nostra idea di celebrazione della famiglia queer. Le nostre promesse non saranno quelle che siamo ste tre cos tre tre a fare l'altro giorno. Vogliamo condividerlo a modo nostro e lo faremo da questo profilo, senza giornali stre o media vari. Il nostro vissuto personale, come quello di tu tre, oggi è più politico che mai e se potessi lasciare un'eredità simbolica, conclude, vorrei fosse questa, un altro modello di relazione, uno in più per chi nella vita ha dovuto combattere sentendosi sempre qualcosa in meno. Sui social, intanto, si accende il dibattito. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.